Parliamo di qualcosa altro, parliamo della sua attività con la sua associazione che si chiama Rendani, anche lì faremo vedere il sito e tutte le attività che lei comunque ha seguito da un po' di anni. Quello che ci ha colpito è proprio la campagna che lei ha indotto, se non mi sbaglio, nel 2015 e poi Rendani è la rete della diaspora nera in Italia, per chi non lo sapesse, potete trovarlo su Facebook oppure anche sul website dell'associazione per poter vedere tutte le attività svolte tramite da corsi e tutto il suo sta tramite Rendani, quindi una delle campagne, una dell'attività che ci ha colpito, perché proprio è nell'ambito del nostro pensiero e di quello che noi sopportiamo, è questo cambio della narrazione e poi lei l'ha chiamato, anche le immagini uccidono. Sì, la campagna che abbiamo promosso come Rendani, io di Rendani adesso sono soltanto il presidente onorario, ho stato il presidente della Rendani da tanti anni e sono adesso abbiamo visto che sotto Natale, sotto le feste, c'è sempre queste ONG che per le loro campagne di crowdfunding svendono queste immagini dei bambini erachitici, con la pace a gonfia, con il naso che cola, con le mosche in faccia, c'è questa immagine pietuosa dei bambini africani per accimolare soldi, no? e questo è offensivo, è offensivo per diverse ragioni, uno, la legge italiana protegge le immagini dei minori, allora io mi chiedo, cioè, se in Italia è vietato mostrare queste immagini dei bambini, cioè, cos'è? I bambini africani hanno meno dignità dei bambini africani, dei bambini europei, dei bambini italiani? La prima domanda. La seconda domanda che mi chiedo, ma perché devono parlare solo alla pancia delle persone, per muovere, per commuoverli, no? Poi io dico, ma questo lo fanno per, cioè, quale, cioè, quale, dico, il fine, il fine giustifica i mezzi? Cioè, allora, chi è il fine? Cioè, i fini sono la cassa dell'ONG e i nostri fini diventano i mezzi da usare per riempire la cassa? Com'è nata questa accorgenza? Perché uno le dirà, ma sono cose che succedono da anni, no? Com'è nata questa accorgenza? Perché siamo talmente abituati a vedere alcune immagini che uno non se ne rende nemmeno conto. Parlo della scrivenza, anche. Perché in una riflessione che abbiamo fatto noi in associazione, proprio sul discorso dell'immaginario, torniamo sempre a questo, perché io dico, se non ci rispettano, non hanno considerazione per noi, perché l'immagine che hanno di noi è sempre l'immagine pietosa, è sempre l'immagine dell'Africa che muore di fame. L'Africa delle guerre tribali, no? È questa l'immagine dell'Africa che si ha. E noi dobbiamo lottare per cambiare questa immagine. Ci sono l'Africa anche dei scrittori, c'è l'Africa, cioè, ora, o l'Africa è miserabile, di tutto, no? Cioè, o è l'Africa, la terra vergine, dove si va a fare le vacanze, no? Sulla spiaggia, no? Dove ci sono gli animali che corrono. E pensano che tutti viviamo, che andiamo a scuola, cioè, addosso di leone, no? Leone! Ma è vero che in Africa tutti vanno in giro nudi. All'inizio mi offendevo quando sentivo queste cose. E ho trovato l'ironia, è stata la mia arma che mi ha aiutato a affrontare queste cose. Che in Africa siamo tutti nudi, sì, 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 andiamo tutti giro nudi in Africa. Guarda che quando sono arrivato in Italia, sono arrivato a Maltenza, sono sceso nudo dall'aeroporto, dall'aereo, non sono sceso dalle stelle tutto nudo. E questa immagine, questa immagine dell'Africa è perpetuata anche dalle ONG, che con la scusa, con le buone intenzioni, perché non bastano le buone intenzioni per fare bene le cose, con le buone intenzioni, con le omelie anche dei missionari, che vengono a fare la giornata dei missionari per racimolare i soldi per le loro missioni in Africa, presentano l'immagine pietoso, perché devono parlare al cuore, alla pancia delle persone, quindi devono impietosire e quindi è più funzionale per riempire le casse. Io dico, ma oggi, come oggi che la gente può viaggiare e vedere la realtà? Non è che noi vogliamo negare le realtà, e questo è importante che la gente lo capisca. Io so che c'è la miseria in Africa, io so che c'è la povertà in Africa, ma non c'è solo quello. Un po' l'ha detto, il direttore di Genafrica, il nostro microfono, che l'Africa è stato come continente sempre visto, no, che praticamente la stampa ha sempre parlato dell'Africa nel modo tanto peggiorativo, un po' come quest'albero che nasconde la foresta, no? Quindi si vede solo l'albero, mentre questa foresta così bella, così vergine, nessuno ne parla. Ma abbiamo iniziato così, quindi speriamo che tanti ci seguono e di poter vedere questa foresta che rappresentiamo, senza negare che l'albero c'è. Poi si è parlato così tanto dell'albero che anche a me dicono, ma non è che non esistono le tossine, ma ce ne sono così tanti che se ne credi su Google ne vedi così tanto di negatività. Io mi occupo di posizionità perché per le immagini crociato durante gli anni è stato quello che le ha detto, la miseria, la fame, eccetera. Quindi a noi spetta il dovere e il diritto di crociare un'altra immagine. E io faccio questo soprattutto per le nuove generazioni che hanno bisogno di avere delle cose in cui loro si rispecchiano. Io ho provato, mi ricordo in una scuola, una maggioranza di bambini, di ragazzi di origine africana. Quando mi hanno visto arrivare, io ho visto che si sono innalzati, erano raggianti. Una volta era arrivato in classe un'immagine di loro positiva, cioè un medico scrittore nero, che è arrivato in una loro classe. Erano tutti, sono venuti lì, mi sono venuti a te lo con per dire è il nostro zio questo, è uno di noi. Sì, i nostri figli non sono qui per fare il lavoro sporco che gli italiani non vogliono fare. Non siamo venuti qui a sfornare dei figli che devono rimpiazzare gli italiani a fare i loro lavori sporchi. Esatto, esatto. E quello che lei ha detto è molto, molto potente, perché io sono la rappresentazione, e l'immagine che la rappresentazione conta, perché il mio percorso professionale in Italia io lo scelse perché c'era un signore cameronese che aveva fatto lo stesso percorso. Quindi vedendolo ho potuto capire, sapere che era possibile. Quindi lo facciamo per i nostri figli, per la nuova generazione, perché è molto, molto importante. Hanno bisogno di immagini positivi di loro stessi. E questo, cioè io torno sempre al discorso, per me l'immaginario è un fulcro importante della nostra personalità. Perché è da lì che parte tutto. Tutto, tutto. Perché l'esempio che tu hai, che ci sprona ad andare avanti, a cercare, cioè, i figli insegna, crescono per imitazione, impara a parlare per imitazione, impara a camminare per imitazione, però deve avere l'immagine a cui prendere questa cosa. Ed è questo che bisogna creare. Alla presa di coscienza di loro stessi. Loro devono capire che sono una società. Sì, possono prendere, devono prendere di questa società. Io personalmente ho cercato di educare, di formare i miei figli, a cercare di prendere il meglio delle due culture. No? Della loro cultura africana. Sono certa che sono un bel incrocio. Sì. No? E questo è importante, questo. Loro appartengono al mondo di domani. Sono cittadini del mondo. Io dico sempre, loro sono cittadini del mondo. E il mondo di domani, infatti mia figlia, no? Molte volte quando incontra altri, dice, una come me, no? Dice, tanto il mondo di domani è nostro. No? Cioè, è la... E la ragione. Sì, il mondo è loro. È loro, è loro. Il mondo è loro. È un mondo che è fatto di incrocio di culture, incrocio di lingue, di linguaggi, no? Cioè, di... Di... Di tutto. La cosa triste, quando tu vedi che l'umanità è stata capace di inventare delle macchine per andare a migliaia di chilometri, ma non siamo riusciti a evolvere, a crescere nella nostra umanità. Io credo che nel cambiamento che dovrebbe esserci nel futuro di queste nuove generazioni è imparare il senso critico. No? Il senso critico, cosa intendo con questo? Oggi abbiamo un mondo molto mediatizzato, dove tutte le cose, ci sono tante fake news che girano. Cioè, bisogna educare i ragazzi a riconoscere il vero dal falso. Cioè, avere senso critico. Quando sentono una cosa chiedersi realmente ma è vera questa cosa qua, quando dicono che danno 35 euro agli immigrati che vivono come pascia, ma è vero che realmente loro prendono tutto. No? E quando dico queste cose nelle scuole, alcuni mi dicono ma guarda così che l'hanno detto alla televisione. Ragazzi, la televisione non è mica parola di Dio. La televisione non è che perché lo dici alla televisione che per forza è vero. È un cambio, è un buon cambio anche di mentalità perché prima nella televisione si faceva proprio... La verità e poi se io dico oggi la ricerca della verità deve essere cioè il verosimile e la verità sono cose diverse. Oggi cioè io ho dato l'esempio a loro dicendo se mia moglie disse così è bello non è una verità è un'opinione. Cioè molte volte perché uno è andato alla televisione ha detto la sua opinione diventa verità. Non è vero. Oggi è va bene. Se sono 100.000 persone che dicono che così è vero ma anche se sono 100.000 persone che lo dicono è un consenso non è una verità. Il consenso cioè l'opinione è una cosa il consenso ne è un'altra la verità è tutta un'altra cosa. oggi come oggi con i social media diventa ancora più difficile questa cosa. perché quando uno vede tanti like sotto una cosa detta da uno su Facebook sembra che sia verità perché c'è un milione di follower c'è tanti like allora diventa avere avere senso critico e chiedersi ma realmente le cose stanno così? La ricerca tanta tanta ricerca sì sì il senso della ricerca anche ben detto così ci porti così all'attualità l'ha voluto lei e siccome è un ospite così di marca non possiamo che collire questa occasione per anche parlare un po' di attualità sappiamo che oggi come oggi tutto tutto ciò che succede nel mondo con i Black Lives Matter il DNN che è iniziato negli Stati Uniti ma anche ancora ieri è tutto di attualità questo movimento si è fascinato in tutto il mondo intero anche in Italia lei cosa ne pensa del Black Lives Matter? Cosa per lei ha rapportato all'Italia il Black Lives Matter? allora molte volte cioè in Italia ci sono tendenze di moda devo dire la cosa le cose perché questo Black Lives Matter ho paura che sia solo per molta molta gente solo una cosa di una moda di un momento c'è un attore mi so che Smith che ha detto che gli eventi che sono in America non sono nuovi sono stati solo filmati quindi non è oggi che io ho letto i i i i i i fratelli i fratelli il libro di ricordo ai miei tempi di Angela Davis no cioè io ricordo che allora tanti secoli fa mi sembra avevo i capelli afro no e era di moda portiamo i capelli afro con le zampe di elefante perché volevamo i soldati imitare i soldati i soldati i soldati cercavamo di imitarli ascoltavamo Otis Redding ero fan di James Brown Arthur Conley cioè era questa la nostra musica che ci identificavamo la moda la moda no e ho paura che oggi la denuncia di questo sia solo secondo me una moda ho paura di questo non mi fido di queste cose perché non durano poi io penso che una presa di coscienza di questo problema che la diaspora africana nel mondo e in Italia in particolare deve avere una presa però la deve avere la diaspora africana non sono le altre che devono dettarci la nostra agenda non sono le altre che vanno a colorare la statua di Montanelli e che dobbiamo correreci dietro noi no se è giusto colorare o meno la statua di Montanelli i nostri problemi sono altri l'azienda nostra quello di The Youth Solis o di The Youth Culture che su quale allora questo è la nostra agenda far che i figli che ragazzi che crescono qui vengano riconosciuti nei loro diritti di cittadinanza dobbiamo lavorare per questo non acconsararsi altre lotte che non sono nostre perché gli altri ce lo propongono che per altri loro interessi ci propongono queste lotte cioè io sono molto critico in quel senso lì su questa cosa qui perché io dico quando parliamo di bloccarle non è stato di parlare del globale per arrivare al locale io dico bisogna partire dal locale noi dobbiamo risolvere i problemi della quotidianità nostra questo comunamente è aperto a quello che è il problema globale però partendo dalle nostre realtà noi abbiamo visto qui io ho avuto cioè noi abbiamo avuto i Redani è stato quando io ero presidente da Redani l'onorevole se si piange era la mia segretaria quando io ero presidente di Redani era la segretaria della Redani ha fatto questo suo percorso politico che abbiamo perso per noi è stata una perdita come Redani di vederla partire e fare questo percorso tanti cercano di portare avanti i loro progetti noi della diaspora africana dobbiamo portare avanti anche i nostri progetti non soltanto allinearsi dietro i progetti altrui come abbiamo avuto l'occasione di Jean-Leonardo abbiamo avuto delle persone che a livello politico si sono impegnati al di là dei partiti eccetera non siamo stati lì ad aiutarli a secondarli a dar loro rinforze in questo loro percorso a livello di rappresentanza dei migrati o ministeri c'è Cleofas ma invece di aiutarlo molti della diaspora sono messi a combatterlo ma dai io l'aiuto no no io penso ho impreso tutto ho messo sul canale sono andato a Roma e questo io penso che dovremmo dimostrare che noi siamo cantaci ma per noi stessi e vanno incoraggiati queste cose qui cioè queste immagini vanno incoraggiati invece molte volte dove la gente trova difficoltà è proprio nella diaspora africana stessa e questa non è una bella cosa questa non è una bella cosa io spero che questo cambia soprattutto non tanto per noi io dico io dico mai noi o mai quello che chiamo è io penso cioè il mio pensiero è quello che noi lasciamo noi stiamo lavorando adesso come Redani su un progetto di memoria e identità perché l'identità sarà creato partendo di una memoria di quelli che sono stati liberati africani qui di quello che è stato fatto qui questi giorni c'è stato ho voluto ricordare anche sulla pagina della Dani l'uccisione di Jerry Maslow no Jerry Maslow che è questo rifugiato sull'africano che non è stato riconosciuto come rifugio a Rosarno nel sud Italia andava a raccogliere pomodori e quelli l'hanno ucciso l'hanno ucciso perché non ha voluto consegnare le sue sorti e quando c'è stata l'uccisione di Jerry Maslow c'è stata veramente la prima manifestazione antirassista in Italia l'Italia era un'Italia veramente che tutti gli italiani si sono veramente alzati e lì è stata una cosa spontanea convinta e questa è stata la nascita anche della legislazione sull'immigrazione in Italia da parte della legge Martelli è nata dall'uccisione di Jerry Maslow la letteratura migrante scritta dai scrittori migranti è nata dall'uccisione di Jerry Maslow e dopo l'uccisione di Jerry Maslow noi abbiamo iniziato a scrivere e Papouma ha iniziato a scrivere e Salah Metnani hanno cominciato a scrivere gli africani che hanno cominciato a scrivere hanno cominciato a scrivere in italiano dopo l'esperienza dopo la decisione di Jerry Maslow e quindi non abbiamo bisogno però oggi di avere degli eroi perché le cose cambino non è necessario che muoiono delle persone perché le cose cambino ma noi della diaspora la comunità africana afroitaliana deve lavorare per facilitare e dare la possibilità ai giovani di affermarsi e questo è la nostra missione la nostra mission come direbbero gli italiani comunque noi sosteniamo tutti e glielo ho detto al telefono ripartisco qua siamo la platea per tutti proprio per cambiare questo immaginario noi abbiamo pensato che proprio immagino una cosa così potente l'arma che abbiamo ai giorni nostri continueremo a fare quello e speriamo che tanti come lei possano darci questa opportunità di far vedere il loro operato e veramente grazie 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 a te complimenti per quello che fai io ti invito a continuare io ammiro queste cose qui ho accettato proprio di fare l'intervista perché io credo in questo credo in questo questa è la strada grazie su questa strada qui grazie grazie sono compito grazie e speriamo che il nostro office cioè che avendo dato che lei ci possa dare un po' più di credibilità a chi non crede in noi che vedendo lei questa trasmissione il suo contenuto che possa dare questo spirito a chi ad oggi ancora a queste due in merito alla strada da prendere e questa è la strada ed è giusto usare i mezzi che oggi la tecnologia permette cioè non possiamo più comunicare con i tam tam i tam tam di oggi sono i social media i tam tam di oggi e dobbiamo noi siamo di 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 perché cioè è una cosa orrenda che ho letto ed è purtroppo è vero in parte che se vuoi nascondere qualcosa agli africani devi metterlo in un libro almeno adesso visto che siamo tradizionalmente più verso l'oralità i social media ci diranno questa opportunità è una delle cose che io tante volte l'altro giorno parlando per esempio con mio fratello al telefono io gli ho detto che uno dei miei sogni vorrei creare in un villaggio un centro internet per i giovani del villaggio no che oltre ai libri possano da lì accedere all'internet perché rubare il fuoco a Promoteo oggi non è necessario andare da Promoteo basterebbe una buona connessione per permettere a loro quindi potranno capire che è importante lavorare la terra lavorare la terra non è una cosa brutta allora però possono accedere alle conoscenze che permettono di migliorare questo lavorare la terra lo possono tramite internet noi dobbiamo lavorare eviterebbe che dovrebbero partire usare traversare il deserto traversare questo mar mediterraneo che diventare un cimitero a cielo aperto dove tanti cervelli perdiamo cervelli non solo forze fisiche dei giovani che sono il futuro del nostro continente che vengono a morire così in questo mare mediterraneo poi c'è ospiti molte volte siamo ospiti indesiderati non si può pretendere venire a si è anticipato sulla prossima domanda sulla portata l'immigrazione perché ho visto una sua intervista lei parlava di promuovere l'immigrazione circolare cosa intende l'immigrazione circolare il progetto di migrazione circolare è un progetto di cui abbiamo discorso molto in Redani soprattutto con il professore Isuela Mè che l'ha proprio scritto testualmente questo che abbiamo proposto lo volevamo proposte al popore allora al ministero che purtroppo non abbiamo proposto ma non è stato preso in considerazione l'amministratore degli esteri era quello di dire l'Italia ha formato oggi tanti giovani africani in tutti i campi in medicina ingegneri eccetera quando l'Italia vuole fare cooperazione con i nostri paesi invece di mandare cooperanti perché non manda questi giovani che sono chiede giovani che vorrebbero tornare al loro paese tanti giovani medici formati qua o ingegneri formati qui ingegneri che sono camerunesi da Costa d'Avorio togolesi eccetera portarli in questi progetti che l'Italia vuole fare che loro conoscono il know-how italiano sono stati formati al know-how italiano quindi sono capaci in più sono del paese sono molti più motivati vanno a lavorare come si dice qui per la loro gente come si dice l'unica cosa è che non vanno a fare missionari come pagate i cooperanti dovete pagare i loro perché è uno che va a fare un lavoro della sua professione allora se questa migrazione secolare questo ritorno dei cervelli in un progetto di cooperazione internazionale dell'Italia riporta questi cervelli che sono stati formati dall'Italia nel loro paese utili per il loro paese ma come pagano i loro cooperanti dovrebbero pagare nello stesso modo non è che vanno lì per fare i missionari che devono accontentarsi dei briccioli cioè uno che va a fare il suo lavoro va pagato per il suo lavoro e lo pagherete come avreste pagato il cooperante italiano questo allora diventa una migrazione perché l'immigrante di Sera Sayad vive nella situazione della doppia assenza noi siamo doppiamente assenti siamo assenti nei nostri paesi di origine ma siamo assenti qua allora la possibilità è quella della doppia presenza convertire la doppia assenza in una doppia presenza essere presenti qui lavorare per quel senso di integrazione nel senso che abbiamo detto noi e allo stesso momento lavorare anche nei nostri paesi di origine quindi allora uno è venuto qui si è formato qui può tornare a lavorare nel suo paese con questo sistema è una migrazione che diventa realmente circolare questo è il concetto che noi avevamo proposto noi che io penso che può essere se qualcuno vuole prenderlo sul serio allora ci è stato detto ma ci manca un database noi facciamo sapere no? le ambasciate ecco io ho detto ma a parte le ambasciate noi come associazione è ovvio che io come seredani chiedo all'università dimmi quanti medici sono usciti a Bologna o a Padova non me lo dicono perché per la legge sulla privacy adesso c'è adesso c'è da quando mi sono laureata io c'è un proprio database di tutti i giorni che è pubblico ogni volta mi mandano anche la mail per poter andare a aggiornare il mio curriculum adesso c'è un database in Italia infatti io ho detto questo poteva farlo il ministero degli esteri italiani comunque io penso che non tutti vorrebbero farlo però se si ha un database si può chiedere una lista di quelli che sono disponibili a questo progetto parliamo un po' di questa nuova generazione così lei ha parlato di attualità come pensate ci sono questi nuovi giovani rispetto all'attualità nelle prossime elezioni ci sono tanti tanti coloro che conosco ci sono alcuni giovani di origine africana che si sono candidati tra qui Sedu Odette Buie Abrin Moukki e Cristina Scandronio quest'ultima è stata purtroppo io dico purtroppo perché noi siamo qua nella positività e nel rispetto delle scelte altrui e della persona e pensiamo che ognuno ha il diritto di avere le sue idee e lei è un'altra persona ha il diritto di non essere d'accordo con me comunque rimanga nel rispetto della persona si può sempre dibattere che mi ha fatto ripensare la stessa legna a tutti gli insulti di cui lei è stata vittima e la nostra solidarietà va proprio a Cristina Scandronio anche se io personalmente non condivido le sue scelte politiche ma lei cosa ne dice di tutte queste mille vittime anche io condanno gli attacchi personali che sono stati fatti perché non possiamo condannare le cose che vengono fatte a noi e comportarsi nel stesso modo nei confronti degli altri perché non si può fare criticare e razzolare in un altro modo questo no non condivido le sue scelte capisco e quello perché lo capisco perché come dicevamo prima l'identità è il percorso di vita che ognuno di noi ha fatto sicuramente le scelte che ha fatto sono legate all'ambiente in cui lei è cresciuta nell'affrontare qualunque difficoltà nella vita quello che tu ricevi in famiglia è quello che ti salverà cioè la corteccia che tu ricevi i valori che ricevi in famiglia non c'entra niente con il colore della tua provenienza sono quelli quindi io penso che prima di tutto devono sentirsi amati dei propri genitori e voluto bene educati correttamente dai genitori d'altra parte è importante dare loro possibilità di scegliere io scelgo fra cosa e cosa se non hanno elementi della cultura di origine dei loro genitori non lo potranno mai scegliere quindi è un dovere cercare di dare loro elementi della cultura dando la possibilità facendo se uno ha la possibilità economica di portarli ogni tanto a casa conosce la realtà di casa non impor loro delle cose io ho visto gente portare i figli a casa e obbligarli a alzarsi la mattina alle 5 perché tutti si alzavano lì alle 5 obbligarli a mangiare con le mani quando i figli non li hanno mai educati a mangiare con le mani cioè lasciarli fare quello che sono abituati a fare qui ma farli conoscere se è possibile insegnarli una lingua una delle lingue del paese se è possibile insegnarli perché dopo quando loro si trovano con gente della diaspora della loro comunità non riescono a comunicare perché si sentono estranei siamo noi stessi che creiamo elementi di estraneità per loro quindi io mi sono sentito rimproverare questo un convegno da una ragazza nata qui e dice io rimprovero mio padre perché non mi ha insegnato la sua lingua io dico ma lui l'ha fatto pensando che era così modo per te di integrarsi meglio in Italia lui l'ha fatto dice no ha sbagliato perché non mi ha lasciato la scelta quindi io penso che bisogna dare le scelte senza impor loro le scelte perché ci sono valori e disvalori in ogni cultura non è che tutto è perfetto in Africa e tutto è perfetto o tutto è perfetto in Europa o tutto è cattivo da una parte dell'altra però devono poter attingere alle due cose io naturalmente io ho cercato di educare i miei figli a un concetto di cittadinanza mondiale cioè infatti volevo dire ma perché devono scegliere perché non possono prendere grande e fare questo incrocio che a noi credo che i nostri figli vanno educati a poter a capire che quello che è importante non è il luogo dove tu nasci no cioè è come tu vivi con le persone le persone con cui tu vivi no cioè riuscire a decentralizzarsi cioè a stare cioè molte volte stare sul confine veniva sempre visto come una cosa negativa no cioè decentralizzarsi vuol dire mettersi nel cerchio del mondo no se io sono nel cerchio io vedo tutti o sono in contatto con tutti se mi metto io al centro del mondo sono etnocentrico penso che la cultura africana è l'unica cosa valida oppure penso che la cultura europea è l'unica cosa valida mi metto io la mia cultura in centro di tutti gli altri non vedo quelli che sono dietro di me sono nel centro del circolo ma non vedo quelli che sono dietro di me vedo solo quello che ho infante avere il coraggio di decentrarsi cioè di mettere la sua cultura nel cerchio con gli altri con le altre culture allora hai una visione di tutto il mondo e questo è importante cioè loro sono sono cioè Calif Gibran dice i nostri figli appartengono a un mondo di domani che noi neanche nei nostri primi sogni potremmo mai entrare non potremmo mai sapere cosa sarà domani e ai figli secondo me bisogna dargli gli strumenti per vivere oggi io dico dicevo sempre ai miei figli se qualcuno vi dice il futuro è vostro vi voglio ingannare perché conosciamo tutti il passato il futuro nessuno lo conosce dire ai figli che il futuro è loro è un modo di ingannare noi dobbiamo garantire loro il presente dobbiamo garantire a questi ragazzi i loro presenti e la loro vita odierna e poi il futuro se lo costruiranno loro noi dobbiamo fare in modo tale che loro si sentano in equilibrio in queste altre annoleggio in cui si trovano l'Africa è parte di loro che lo vogliano o no non lo possono negare è parte di loro è qualcosa di essenziale che di loro dobbiamo aiutarli a ritrovarlo a ritrovarlo e a coniugarlo con questa nuova realtà in cui si trovano loro si trovano molto diversi in questa foresta di Timento no? devono ritrovare e conoscere anche la foresta da dove sono venuti nel loro paese di origine e il valore che ci sono lì no? perché non è possibile che l'Africa sia solo quella della miseria quella dei morti di fame quella dei dittatori cannibali il virus dell'ebola di Biafra cioè non è solo questa questa Africa e noi dobbiamo fare in modo tale che loro siano orgogliosi di essere africani esatto penso che è un po' quello che manca e anche questo il nostro dovere in quanto genitori no? di coltivare questo orgoglio e spogli anche a tutto ciò che c'è di positivo che riguarda la loro origine e ci stiamo lavorando e ci stiamo lavorando e ci stiamo lavorando perché loro ti chiedono giustamente allora se è così bello in Africa perché sei andato no? spiegare loro le ragioni perché uno ha fatto questa scelta spiegare le ragioni di questa scelta ma spiegare anche che i paesi di origine la nostalgia è vero che la nostalgia ci porta a ricercare solo a riscaldarsi nella freddura dell'inverno riporta solo i cepi più belli le cose più belle e ci ricordiamo ma bisogna dirlo anche le cose brutte che ci sono eh sì ma dappertutto ecco ecco questo però io credo che le scelte dei figli riguardo all'Africa dipende di come noi presentiamo a loro l'Africa non impor loro l'Africa e quello che voglio dire quando dico lasciare loro la scelta no? non impor loro l'Africa ma capire che può essere qualcosa che li arricchisce che tanto quello vogliono o no è parte di loro grazie mille così siamo quasi alla fine di questa bellissima intervista di questo talk e come dico io se non l'avessi pensato sinceramente lo rifarei perché infatti parlare con lei come si suole dire ci sono quelle cose dove ci capiamo è anche diverso quindi quando sono arrivata e gli dicevo ho trovato che comunque la platea era era buata ho detto così si va ma sempre a passi intervistare con oggi questo è un tema lanciato a tutti della Diaspora vi aspettiamo per parlare di noi delle nostre attività e per aiutare la nuova generazione a avere questo voglio e questa rappresentazione che ci vuole perché qua come si suole dire in inglese mi tende la rappresentazione di canzio così per finire la nostra intervista io chiedo sempre a tutti gli ospiti lei ne ha già parlato così tanto che cosa allora per lei per finire che cosa per lei uno che cosa è il suo incrocio principale e che cosa per lei incrocio essendo comunque il nome del nostro canale che cosa per lei incrocio e qual è il suo ospicio per le nuove generazioni un po' ripetersi perché lei ne ha parlato così tanto dei suoi ospici per le nuove generazioni no io il mio augurio per le nuove generazioni il mio augurio è che siamo condannati a convivere no a convivere tutti siamo condannati anche perché l'uomo è essenzialmente un animale che vive con altri l'uomo non è un'isola come si dice allora bisogna vedere come dobbiamo convivere no possiamo dire sì siamo in questo bel palazzo no che è l'Italia possiamo dire mettiamo gli africani al primo piano no mettiamo gli italiani che sono nati in Italia in una parte e ognuno sta chiuso a gabbia no nella sua stanza e viviamo comunque in un palazzo ghettisante qualcuno può dire ma va bene visto che siamo sullo stesso pianerotolo no visto che siamo sullo stesso pianerotolo io apro la mia porta tu puoi venire a casa mia ma visto che mi sono padrone a casa mia non deve diventare come me no sono quelli che sono assimilanti allora io dico io credo che se il palazzo è il problema se andiamo nella piazza dove siamo tutti allo stesso livello dove tu impari qualche cosa da me io imparo qualche cosa da te e nel questo scambio reciproco questa interazione delle nostre interità perché tutti abbiamo paura di essere disintegrati perché tutti abbiamo paura dell'integralismo ma dobbiamo trovare il modo di convivere assieme so che quello che dico può sembrare utopico riuscire a farlo no ma noi abbiamo bisogno di questa autogia per creare un autogia un mondo felice un giorno no allora siamo sulla stessa barra sappiamo c'è una frase che ho trovato in un convegno un giorno mi ricordo che diceva siamo siamo sulla stessa barca il vento soffia forte è un vento contrario ok noi non possiamo dirigere il vento ma ognuno di noi possiamo orientare le vele e questo che io penso che i ragazzi dovranno fare ognuno di loro possono orientare le vele della loro vita per portare la barca ora questo è il mio pensiero profondo grazie 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 così detto bellissimo in sospicio per la generazione futura come ha detto ormai siamo andati quindi cerchiamo cerchiamo di appoggiarli in questa barca affinché ognuno possa come ha detto lei fissare il velo per andare in buona direzione al vento la ringrazio ancora non saprei proprio come ringraziarla se ha un come si dice in francese l'unno un libro per esempio sarebbe speranza un libro un animale un animale adesso tutto sommato il cane perché è un animale che è fedele è un animale che protegge e veramente ha il senso proprio il senso della fedeltà io credo che abbiamo bisogno sempre di più di gente che tenga fede alle parole che dia valore alle parole in un mondo in cui si parla c'è tante parole tanta comunicazione ma molte volte la gente non dà valore alle parole le parole sono cose sacre almeno nella nostra cultura se ne fosse una stagione alla primavera la primavera tutto rinasce io nei primi tempi quando sono arrivato in Europa in autunno quando ho visto le foglie cadere ero disperato ho detto stanno morendo tutti gli alberi stanno morendo e il mio professore mi ha detto ma no vedrai ci sarà la primavera quando ho visto i germoli verdi ho visto l'aria e gli uccelli che tornano a cantare quando c'è la primavera il profumo il profumo si io sento il profumo del calicantus quando c'è la primavera e cose lette nei libri occidentali finalmente diventano realtà ma la sua prima neve se lo ricorda mamma mia si 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 mi ricordo la prima neve cioè non l'immaginavo così non l'immaginavo così no veramente rimane sempre qualcosa di miracoloso vedere questo come le cose nella natura la gente si abitua perché lo vedono tutti i giorni e per loro è normale che sia esatto si non potremmo immaginare chi non si ricorda il mio nemico comunque rimane il freddo pure il mio com'è lei cos'è una parola oh rispetto è come per il libro una parola la parola speranza perché per me la parola speranza è una parola piena di tanti sogni no io credo che bisogna sapere sognare nella vita io dico sempre ai ragazzi di sognare bisogna sognare sognare sempre in grande perché il sogno non è altro che l'ombra della realtà quindi se uno sogna grande fa delle grandi cose se sogni piccolo fai delle piccole cose tanto vale sognare in grande esatto ho giusto se sogni canzone chi so? se fosse una canzone una canzone sicuramente una canzone lo più che altro canzone una musica che sia ballabile una musica come un rhythm and blues o una musica come reggae o come coupé de calais non è quasi tagliate un po' donne e niente abbiamo finito così siamo al termine grazie grazie cari saluti agli ascoltatori rimanete fedeli a questo incrocio di culture e popoli culture and people perché è una bella iniziativa io mi complimento per questa iniziativa di portarlo avanti perché è nella conoscenza solo nella conoscenza dell'altro che l'altro diventa qualcosa di strano che può essere un pericolo perché mi rendo conto che ha delle emozioni come me ha dei pensieri come me ha dei sentimenti ha dei sogni come me e questi sogni li possiamo condividere è questo che fa vivere assieme ecco quindi tanti 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 auguri a voi grazie 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 tantissimo per il suo tempo la sua considerazione di aver accettato il nostro unito e per il suo porto per qualunque iniziativa che voi avete come redaglio oppure come scrittore noi ci siamo e saremo più che vieti di condividere con tutti le iniziative perché no un giorno farne anche parte è vero che tra gli impegni come mamma e altro facciamo del tutto per dare proprio voce a tutto ciò tutte le attività della diaspora un ringraziamento particolare grazie grazie di nuovo e a presto allora ciao 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.